...della capannina, naturalmente, vuol dire, vuoi annunciarlo tu, Gerardo Guidi! Ladies and gentlemen, Gerardo Guidi! Sono peato fra le donne stasera, eh? Come sempre, grazie Luisa, grazie. Io vi ringrazio a nome mio e di tutti i miei collaboratori per questa numerosa, calda e bellissima partecipazione. Questa sera è una grande festa per la capannina che festeggia 73 anni. È il locale più, chiamiamolo così, più anziano, più vecchio in attività del mondo. C'era Rosalai di New York, ma mi dicono attualmente che non è più servizio, perciò la capannina è il primo locale più vecchio del mondo. Facciamogli un applauso che non ho ancora sentito. Questa è roba da Serie C da Fiorentina. Facciamolo noi, qui sappiamo il Presidente Morano, facciamolo da Inter, dai!